Si lamenta delle tasse troppo alte come qualsiasi imprenditore onesto, se la prende con i giornalisti che lo hanno trattato ingiustamente, chiede di essere lasciato in pace. Felice Maniero parla della sua nuova vita nell'intervista rilasciata in esclusiva alle testate del gruppo Finegil. La sua attuale identità resta segreta, è la terza in ordine di tempo dopo quella del boss della mala del Brentac per vent'anni insanguinò il Veneto e quella dell'imprenditore Luca Mori, diventata di pubblico dominio dopo un'inchiesta di report su presunte irregolarità nelle forniture di depuratori d'acqua per alcune amministrazioni pubbliche. Oggi Maniero vive ancora in Italia e continua a fare imprese in un altro settore sotto un altro nome. Avrei dovuto andarmene all'estero, confessa, sono stato un cretino a non farlo. Già nel 95 avrei potuto comprare una casa in un altro paese, non so neppure io perché sono rimasto. Ora stiamo per avviare una start-up, racconta, abbiamo brevetti e clienti importanti. Non sono più un criminale ma ho paura per i miei figli. Negli ultimi tempi sono usciti dal carcere tutti più pericolosi tra i miei ex compagni di banda e so che mi cercano perché al loro posto neppure io me la sarei messa via. A non dimenticare anche molti semplici cittadini, convinti che l'ex boss non abbia pagato abbastanza duramente per i suoi crimini. Siamo in Italia, che gente oggi è premiata? Cioè qua, se vanta il povero, è gente di poco conto, mi penso tutto il male possibile, cioè per un personaggio del genere. Lui ha fatto delle cose malamente, però dopo si è messa un po' incareggiata, ma era troppo tardi. Dovevano togliere dei soldi per darli a chi ha più bisogno. Per carità, non si nega a nessuno la possibilità di riprendere una vita e di riprendere soprattutto una dignità. Non è che non ha fatto niente, ha ucciso, ha fatto cose abbastanza gravi, per dire poco, abbastanza gravi. E forse la pulizione non sono state adeguate, forse. Non so, non sono né un politico né un avvocato. Le nostre leggi sono state fatte da gente che non era proprio pulita.